Sofì Codegoni e Alessandro Basciano, relaxala aspettando Céline, gli ultimi momenti da fidanzatini. Sofì Codegoni e Alessandro Basciano a breve diventeranno genitori della loro bambina Céline e proprio per questo si stanno godendo agli ultimi momenti da fidanzatini. La coppia ha deciso di trascorrere un po' di giorni di relaxala SP e sta tenendo aggiornati i propri fan tramite storie Instagram. Nelle sue ultime storie Instagram, Sofì Codegoni mostra ai suoi follower come si sta riposando insieme al compagno Alessandro Basciano. L'influencer, alcuni giorni fa, aveva annunciato che sarebbe partita per una mini-vacanza. Anche se, non aveva svelato la destinazione. Sofì si sta godendo questi ultimi momenti prima della nascita di Céline che dovrebbe avvenire intorno alla metà o verso la fine del mese di aprile. Sofì Codegoni non vede l'ora di conoscere Céline. L'influencer ha preparato tutto, la culla. Il fa sciatoio, i pannolini e tutti i vestitini. Ora, manca solo la sua bambina. Bine caracterul meu de fier, Că baie ploaie vând niciun curcubeu, Dace că toate astea-s doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta, Tu chiar nu vezi cât ai intârziat deja. Arunca spate visele într-o geantă și pleacă, Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva, Închide ochii, zi poți imagina, Că lumea e a ta și-n plus, Poți să sari sus, 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 sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, N-au avut habac. Când e sus, când e sus, când e sus, Când e sus, pot eu să sar. Acum că nu, nu, Nu mai am nimic de ascuns, Pot să mă duc tot, mai suc.